Mi piacerebbe diventare Joseph Garcia. Sogna di diventare un campione come Joseph Garcia, ma di traguardi il piccolo Ettore Milighetti ne ha già raggiunti tanti. A soli otto anni, infatti, nel suo medagliere spicca già un titolo italiano. Il giovane castiglionese si è imposto nel campionato di mini-enduro, trionfando nella categoria debuttanti con 112 punti. Come appassionato e praticante di questo sport, è forse doppia o tripla la cosa di essere orgoglioso di Ettore. Dopo la vittoria, l'atleta si sta già preparando con la rappresentativa della Toscana al trofeo delle regioni. Farà parte della squadra toscana mini-enduro della squadra A, dunque questa è un'ulteriore soddisfazione. Al piccolo campione di enduro adesso è stato consegnato un attestato di merito da parte dell'amministrazione comunale. I fasti del Motoclub hanno raggiunto il loro apice con Fabrizio Meoni, ma di appassionati ce ne sono stati tanti. Se oggi dobbiamo celebrare un piccolo campione di otto anni che si è giudicato il campionato italiano enduro debuttanti, penso che non sia frutto del caso. Tra le altre cose conosco personalmente Ettore Milighetti e so quanta passione lo lega a questo sport, la sua passione è quella della sua famiglia, quindi non è un caso che si raggiunge questi risultati. È chiaro che la cosa più importante per i bambini è non perdere di vista lo scopo sociale dello sport, che è una formazione, che è una scuola di vita, che è anche una cultura. E quando questi valori sono spontaneamente rappresentati da un giovane come Ettore, io credo che tutta la comunità di Castiglio Fiorentino ne può essere orgogliosa.